Ciao a tutti! Oggi parliamo di eventi compatibili e eventi incompatibili, quindi continuiamo con l'argomento della probabilità. Nel video di oggi riprendiamo un esempio che avevo affrontato già in un altro video che avevo postato qualche giorno fa, che riguardava appunto l'evento unione e l'evento intersezione. Io spero che quel video voi l'abbiate visto, se così non fosse io comunque vi lascio il link qua sopra in modo tale che voi possiate andarlo a guardare. Comunque riprendiamo lo stesso esempio che avevo già fatto e andiamo a capire effettivamente la differenza tra un evento compatibile e un evento incompatibile e andiamo a vedere effettivamente i teoremi che gli interessano. Quindi l'esempio che oggi prendiamo è quello di prendere 12 dischetti numerati che però contengono i numeri da 1 a 12 e prendiamo sempre i due eventi, ovvero l'evento e 1 ci dice che appunto dobbiamo prendere tutti i numeri pari, mentre l'evento e 2 ci dice che dobbiamo prendere tutti i numeri che sono maggiori di 7. Un po' come avevamo detto anche nell'altro video, quindi questi due eventi possono avvenire contemporaneamente, ovvero per esempio se noi estrariamo proprio il dischetto con il numero 10 abbiamo soddisfatto entrambi gli eventi perché il numero 10 è al tempo possesso sia un numero pari ma anche un numero maggiore di 7. In questo caso si dice che gli eventi sono compatibili. Consideriamo ora invece altri due eventi, ovvero abbiamo l'evento e3 dove ci dice che esce un multiplo di 5 e poi un evento e4 che ci dice esce un multiplo di 3. Questi due eventi invece se prendete tutti i numeri, ovviamente sempre che devono essere compresi tra 1 e 12, questi due eventi non possono mai avvenire contemporaneamente, quindi in questo caso non parliamo più di eventi compatibili ma di eventi incompatibili. Quindi in generale possiamo dire che due eventi si dicono incompatibili se al verificarsi di uno si va ad escludere l'altro, invece si parla di eventi compatibili se i due eventi si verificano contemporaneamente, quindi l'uno non esclude l'altro ma anzi devono verificarsi contemporaneamente. Andiamo per ora a vedere effettivamente il teorema della somma per eventi incompatibili. Riprendiamo sempre l'esempio dei 12 dischetti ma in questo caso prendiamo gli eventi e3 ed e4. Quindi l'evento e3 abbiamo detto esce un multiplo di 5, l'evento e4 esce un multiplo di 3. In questo caso cerchiamo la probabilità dell'evento unione, ovvero l'evento unione diceva che deve uscire o un multiplo di 5 oppure un multiplo di 3. Quindi i casi favorevoli di e3 sono 2, mentre i casi favorevoli di e4 sono 4. Perché abbiamo che gli eventi favorevoli di e3 sono proprio 5 e 10, sempre per rientrare tre numeri che sono compresi tra 1 e 12, mentre i casi favorevoli di e4, ovvero i multipli di 3, abbiamo 3, 6, 9 e 12. Quindi abbiamo quattro casi favorevoli. Pertanto i casi favorevoli di e, quindi dell'evento complessivo, sono proprio 6. Abbiamo fatto la somma con i casi favorevoli di e3 più i casi favorevoli di e4, mentre i casi possibili sono 12 perché abbiamo i numeri da 1 a 12. Quindi la probabilità dell'evento e è uguale proprio alla somma delle due probabilità. E lo possiamo scrivere in questo modo. Quindi la probabilità dell'evento è uguale a 6 fratto 12, ovvero 2 fratto 12, che sono proprio i casi favorevoli, abbiamo detto, di e3, più i casi favorevoli di e4, ovvero 4 fratto 12, perché abbiamo sempre al numeratore i casi favorevoli, al denominatore i casi possibili. Scrivendolo in altro modo possiamo dire che la probabilità dell'evento complessivo è dato proprio dalla somma delle due probabilità. Infatti il teorema proprio della somma degli eventi incompatibili dice che se abbiamo due eventi e1 e2 e questi due eventi sono incompatibili, allora la probabilità del loro evento unione è proprio dato dalla somma delle due probabilità. Quindi la probabilità dell'evento, ad esempio, e1 più la probabilità dell'evento e2. E lo possiamo scrivere in questo modo. Quindi abbiamo il simbolo di unione e lo possiamo scrivere come la somma delle due probabilità. Per capire al meglio questo teorema vediamo un esempio. Un'orma contiene 6 gettoni neri, 5 rossi e 4 bianchi. Estraendo un gettone a caso si può verificare uno dei seguenti eventi. Ovvero l'evento e1 ci dice che stiamo estraendo un gettone nero, l'evento e2 dice estrazione di un gettone rosso, l'evento e3 estrazione di un gettone bianco. Quindi le probabilità sono, andiamo a separarle, la probabilità dell'evento e1 ovvero vorrà dire che noi abbiamo l'estrazione di un gettone nero. I casi favorevoli sono proprio 6 perché abbiamo 6 gettoni neri. Al denominatore andiamo a mettere tutti i casi possibili, ovvero andiamo a fare la somma tra 6, 5 e 4, quindi tutti i gettoni contenuti all'interno dell'urna. Quindi abbiamo 6 fratto 15. Andiamo a fare qualche semplificazione, quindi la probabilità dell'evento e1 sarà due quinti. Probabilità dell'evento e2, estrazione di un gettone rosso. Al numeratore andiamo a mettere 5 perché sono 5 i gettoni rossi. Al denominatore sempre i casi possibili, quindi 15. 5 fratto 15 andiamo a semplificare, abbiamo un terzo. E infine la probabilità dell'evento e3, quindi l'estrazione di un gettone bianco, abbiamo che i gettoni bianchi sono 4, quindi al numeratore abbiamo 4, denominatore sempre 15. Questi eventi però sono tra loro incompatibili, perché noi possiamo estrarre solo una volta e ovviamente quindi all'estrazione possiamo prendere solo o un gettone nero o un gettone bianco o un gettone rosso. Quindi al verificarsi di uno escludiamo l'altro. Però applichiamo il teorema e andiamo a capire effettivamente la somma delle probabilità. Allora andiamo a fare tutti i casi possibili, quindi l'evento e4 è proprio l'estrazione di un gettone nero oppure rosso. Invece l'evento e5, estrazione di un gettone rosso o bianco e poi l'evento e6, ovvero estrazione di un gettone nero o rosso o bianco. Andiamo a calcolare le probabilità. Quindi probabilità dell'evento e4. Abbiamo estrazione di un gettone nero e noi prima avevamo detto è proprio due quinti. Oppure al tempo stesso qui vi deve essere anche l'estrazione di un gettone rosso, dove noi abbiamo detto che la probabilità dell'estrazione di un gettone rosso era proprio e2, ovvero un terzo. Quindi abbiamo due quinti più un terzo uguale undici quindicesimi. Stessa cosa dobbiamo fare anche con le altre. Quindi la probabilità dell'evento e5, prendiamo estrazione di un gettone rosso, ovvero un quinto, estrazione di un gettone bianco 4 quindicesimi, quindi un terzo più 4 quindicesimi, abbiamo che il risultato è proprio 3 quinti. E infine la probabilità dell'evento e6, abbiamo gettone nero, rosso o bianco. Quindi facciamo la somma complessiva. Quindi due quinti più un terzo più 4 fratto 15, otteniamo proprio 15 fratto 15, ovvero 1. Però oltre al teorema della somma degli eventi incompatibili, vi è anche il teorema della somma degli eventi compatibili. Anche qui prendiamo sempre l'esempio dei 12 dischetti, dove l'evento e1 era prendere sempre i numeri pari, l'evento e2, i numeri maggiori di 7. Quindi i casi favorevoli dell'evento e1 sono 6, perché possiamo prendere tutti i numeri pari, mentre quelli dell'evento e2 sono 5, perché i numeri maggiori di 7 ma al tempo stesso minori di 12 sono proprio 5. I casi favorevoli complessivi sono proprio i numeri che sono pari oppure maggiori di 7. In questo caso infatti non abbiamo che i casi favorevoli sono 11, ma sono 8, ovvero non dobbiamo fare la somma tra 6 più 5 come abbiamo fatto prima, ma bisogna fare un altro procedimento, ovvero dobbiamo andare a prendere i casi favorevoli che sono verificati per entrambi gli eventi. Quindi abbiamo detto che se sommiamo i casi favorevoli di e1 e quelli di e2, vengono considerati due volte i casi dovuti proprio all'intersezione tra questi due eventi, mentre nell'unione devono essere considerati una sola volta. Quindi dobbiamo fare la somma dei casi favorevoli dell'evento e1 più i casi favorevoli dell'evento e2, ma dobbiamo escludere quindi l'intersezione proprio tra questi due eventi. In questa immagine forse è un po' più chiara, perché i numeretti 8, 10 e 12 che sono comuni sia all'evento e1 sia all'evento e2 li dobbiamo prendere solamente una volta. Quindi andiamo a scrivere proprio che la probabilità dell'unione tra questi due eventi è dato proprio da 6 più 5 meno 3, quindi andiamo a fare la somma degli eventi e1 ed e2, sottraendo però quelli dell'intersezione. Fratto, quindi al denominatore abbiamo sempre tutti i casi possibili, quindi 12. Quindi possiamo andare a separare queste frazioni, ovvero scriviamo 6 fratto 12 più 5 fratto 12 meno 3 fratto 12, ovvero abbiamo 8 fratto 12, quindi 2 fratto 3. Quindi abbiamo proprio la probabilità di e1 più la probabilità di e2 meno la probabilità dell'intersezione tra questi due eventi. Quindi vale il seguente teorema, che se noi abbiamo due eventi e1 e2, questi due eventi sono compatibili, quando andiamo a calcolare la probabilità dell'evento unione, questo sarà uguale proprio alla somma delle loro probabilità, dove però dobbiamo andare a sottrarre l'evento intersezione. Quindi come l'avamo visto prima, la probabilità dei due eventi uniti tra loro è uguale proprio alla probabilità di e1 più la probabilità di e2 meno la probabilità dell'intersezione tra i due eventi. Anche qui facciamo un esempio e poi determiniamo. Dentro un'urna vi sono 30 palline, 10 bianche numerate da 1 a 10, 10 rosse e 10 gialle numerate sempre allo stesso modo. Vogliamo calcolare la probabilità che estraendone una a caso venga estratta una pallina gialla o pari. Quindi il numero totale di palline dobbiamo fare direttamente la somma oppure, come ci è stato detto dall'esercizio, sono direttamente 30, quindi sicuramente i casi possibili sono 30, al denominatore abbiamo 30. Al numeratore invece dobbiamo estrarre una pallina gialla, quindi i casi favorevoli sono 10, perché abbiamo 10 palline gialle, quindi 10 fratto 30, ovvero un terzo. Le palline con numero pari però sono 5 per ogni colore, quindi abbiamo 15, perché dobbiamo andare a sommare 5 con numero pari relative alle palline bianche, 5 relative alle palline rosse, 5 relative alle palline gialle. Quindi la probabilità che venga estratto un numero pari, quindi indipendentemente dal colore, è proprio 15 fratto 30, ovvero un mezzo. Gli eventi, come abbiamo detto, sono compatibili, quindi i casi favorevoli a entrambi gli eventi, quindi pallina gialla e numero pari, sono proprio 5. Quindi la probabilità dell'evento cercato è proprio un terzo più un mezzo meno 5 fratto 30, ovvero abbiamo sempre sottratto l'intersezione tra questi due eventi. Quindi se andiamo a fare tutta questa somma algebrica, otteniamo proprio che la probabilità di questo evento complessivo è proprio due terzi. Bene, quindi con questo esempio per oggi terminiamo. Abbiamo visto entrambi i teoremi e come possiamo differenziare sia gli eventi compatibili sia gli eventi incompatibili. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così non vi dimenticate di lasciare un like ed iscrivervi al canale se siete nuovi. Noi poi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo argomento. Ciao! Ciao!